Musica Terribile scoperta nella prima serata di venerdì 19 marzo in un'abitazione di Savonia nella valle del Natisone. Intorno alle 19 è scattata una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti. Erano preoccupati perché un vicino di casa non usciva da diversi giorni dalla sua abitazione. I pompieri hanno aperto la porta che era chiusa dall'interno e una volta entrati in casa i soccorritori hanno fatto la triste scoperta. L'uomo, 67 anni, è stato trovato senza vita, stroncato da un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto.